Riaprire gradualmente in sicurezza, ma già da fine aprile. Queste, secondo indiscrezioni, le intenzioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che in base ai risultati dei contagi in Italia di questo fine settimana e sentito il parere della cabina di regia, potrà stilare più facilmente con i ministri un calendario delle riaperture ormai non più rimandabili. L'allentamento delle restrizioni ormai necessario per le migliaia di palestre, cinema, teatri e locali della ristorazione in enorme affanno. Ma c'è un nodo che va sciolto prima di poter parlare di riaperture, la messa in sicurezza di anziani e persone fragili. Per questo motivo, visto l'andamento ondivago e non ancora a regime della campagna vaccinale in Italia, sarà difficile prevedere un cambio di scenario prima della fine di aprile. In ogni caso, ci sarebbe già una bozza dell'ordine con cui i settori dovrebbero riaprire. I primi dovrebbero essere bar e ristoranti e i luoghi della cultura. Per questo, si sta già lavorando a predisporre nuovi protocolli di sicurezza per questi settori, a partire dalla capienza di cinema e teatri. L'ipotesi al vaglio è che per le regioni che dopo il 30 aprile saranno in zona gialla, sia possibile una riapertura di cinema e teatri con una capienza del 50%. Per i musei, si sta valutando invece la riapertura sulla base di visite a tempo e percorsi obbligatori. È ancora incognita su bar e ristoranti, ma probabilmente, almeno nel primo periodo, anche nelle zone gialle le riaperture la sera non saranno possibili. Molto dipenderà dalla percentuale di anziani vaccinati e dall'andamento del virus nelle prossime settimane. Incertezza che coinvolge anche il settore palestre. Al momento, l'ipotesi sarebbe quella dell'ok solo a lezioni individuali.